Era crollato nel 2011 e nel 2012 con i governi che c'erano allora già dal 2011 a sotto i 300 milioni. Con grande fatica si è riportato quest'anno, lo scorso anno maggiormente, l'altro anno ancora, sopra i 500 milioni di livelli storici, che sono i livelli che permettono il funzionamento delle scuole paritarie in Veneto, sono importantissime, vanno assolutamente valorizzate. Questa cifra quest'anno subisce una leggera riduzione, che però è apparente, nel senso che questa riduzione deriva dal fatto che c'era una posta di bilancio di circa 50 milioni, che era stata fatta solo per il 2017, in attesa che fosse promulgata la legge che riguarda il finanziamento finalmente strutturale e definitivo della fascia di età 0,6, cioè degli asili nido delle scuole dell'infanzia. C'è tutto lo spazio, lo diciamo con forza, perché è bene che anche giustamente l'allarme che i Vescovi hanno sollevato venga recepito dalla Regione, per fare in modo che i livelli di finanziamento non solo non calino, ma possano essere anche, in base alle necessità, integrati.